Musica Quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro della sanità in Molise. A Roma presso il Ministero dell'Economia e della Finanza ha previsto per il pomeriggio un tavolo tecnico per vagliare i piani operativi per la sanità regionale. All'incontro con i tecnici ministeriali chiamati a valutare il percorso di rientro dal pesante deficit sanitario regionale prenderà parte anche il presidente commissario Paolo Di Laura Frattura insieme alle figure apicali della sanità regionale. In caso di approvazione del documento la regione Molise avrà i 40 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2015 come contributo al risanamento dei debiti pregressi. Complessivi 4.548 posti per tutti gli ordini scolastici compresi i posti sul sostegno e potenziamento così ripartiti per provincia. 3.398 in quella di Campobasso, 1.150 in quella di Isernia. La diffusione dei dati da parte dell'ufficio scolastico del Molise è relativa alla ripartizione dei posti in organico dei docenti per l'anno scolastico 2016-2017. Sulla valutazione di merito sui dati si attendono le valutazioni delle associazioni di categoria. Un avviso pubblico per la realizzazione e gestione di un centro antiviolenza e di una casa rifugio è una proposta di legge relativa all'istituzione dell'osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza. Sono le due risoluzioni decise dalla quarta commissione regionale riunitasi ieri pomeriggio. I temi in agenda, rilevanti e di stretta attualità riguardanti appunto la prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, nonché la limitazione del gioco d'azzardo patologico e la prevenzione della cosiddetta ludopatia. Da qualche mese senza stipendio e senza contratto è la situazione degli impiegati a tempo determinato nei centri per l'impiego regionali. Le associazioni sindacali di categoria CGL e UIL annunciano lo stato di agitazione. I problemi sono iniziati con il trasferimento delle funzioni dalle province alle regioni secondo quanto previsto dalle riforme varate dal governo centrale. I dipendenti, fanno sapere i sindacati, stanno svolgendo le relative mansioni e funzioni in assenza del contratto individuale di lavoro e, di conseguenza, in assenza dello stipendio da qualche mese, una criticità che, secondo quelle stesse associazioni di lavoratori, potrebbe presto riguardare anche il personale a tempo indeterminato. Sono oltre 100 gli studenti Unimol che si sono proposti per compiere nell'anno accademico 2016-2017 un percorso di soggiorno studio all'estero attraverso il programma Erasmus. Per salutarli e supportarli, domani si terrà a Campobasso, nella sala della Biblioteca di Ateneo di Viale Manzoni, un seminario informativo. L'Università del Molise, come ribadito dal rettore Gian Maria Palmieri, sta puntando sempre di più su questo strumento voluto e finanziato dalla comunità europea per consentire agli studenti maggiori possibilità di mobilità formativa e lavorativa nei paesi dell'Unione. Gli studenti che hanno partecipato al programma di mobilità Erasmus, fa sapere il rettore, hanno un 20% di probabilità in più di trovare lavoro dopo il conseguimento del titolo. Gli studenti che hanno partecipato al programma di mobilità Erasmus, fa sapere il rettore,